E mentre si apre un altro tratto nell'ambito dei lavori della strada statale 640 con l'apertura del bypass, si pensa ai prossimi passi da effettuare, a partire dalle opere di compensazione che interesseranno anche via Borremans. Su via Borremans c'è un intervento di 5 milioni di euro, già previsto nella perizia, che è in corso di approvazione. Gli uffici stanno dando il parere sulla perizia, è già favorevole, ma l'hanno annunciato e è solo da scrivere. Quindi partiranno i lavori di via Borremans nel momento in cui sarà esecutiva la perizia di variante, ma non solo quelli, perché noi abbiamo individuato altri 2 milioni e 8 che servono per il consolidamento della frana di contrada alla spia e per collegare la parte est della città, quindi via Santo Spirito, e la parte est del centro storico con la 640. Intanto l'apertura della bretella rappresenta un momento decisivo per il miglioramento della viabilità del territorio. Questa è un'invenzione, non è una strada. Quest'invenzione è stata frutto della concertazione con il sottosegretario Cancelleri e un giorno abbiamo deciso di fare un sopralluogo e farci un giro qui. Quindi tutto è diventato esecutivo grazie al lavoro del progettista, del direttore dei lavori e del gruppo della direzione lavori, che io ringrazio perché da oggi Caltanistetta è di nuovo collegata con il resto del mondo. Non si faranno i giri di mezza città per andare fino ad Agrigento e questo è un risultato importantissimo anche per la città di Agrigento. Questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio perché è veramente inventata da noi. Non c'era questa strada ed è un bypass che sarà momentaneo. Spero che può diventare anche definitivo per utilizzarlo per altri motivi, ma in questo momento riusciamo attraverso questa strada a collegarci con la Galleria Sant'Elia e a ripristinare il vecchio ingresso di Caltanistetta come era fino a cinque anni fa. Sono passati esattamente cinque anni da quando il piadotto San Giuliano è stato chiuso perché era pericolante. Adesso, come vedete, è pure demolito, quindi abbiamo dato l'alternativa alla nostra città.